Ben ritrovati su Ultima Tg, apertura del nostro giornale dedicata alle scommesse online illegali. Sono 28 i fermi in tutta Italia, mentre a Catania e provincia sono 28 i reati, quelli di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e illecita raccolta di scommesse online. Le nuove mafie hanno bisogno di quelli che cliccano, che movimentano i soldi facendoli transitare da un paese all'altro senza lasciar traccia dalle transizioni online, non di quelli che fanno bam bam, cioè quelli che sparano. A confermare il cambio di mentalità delle organizzazioni criminali, è uno degli indagati nell'indagine di tre procure che ha portato all'arresto di 68 persone appartenenti a gruppi mafiosi che si erano spartiti il mercato online delle scommesse clandestine intercettato dalla Guardia di Finanza, mentre spiega quale sia la strategia giusta da attuare. Il denaro accumulato illegalmente, il cui percorso è stato monitorato dalle fiamme gialle, veniva poi reinvestito in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero, intestati a persone, fondazioni e società, tutte ovviamente schermate, grazie alla complicità di diversi prestanome. E proprio per rintracciare il patrimonio accumulato ed effettuare i sequestri è stata fondamentale la collaborazione di Eurojust e delle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno Unito, Serbia, Albania, Spagna e Malta. I reati contestati a vario titolo vanno dall'associazione mafiosa al trasferimento fraudolento di valori, dal riciclaggio all'autoriciclaggio, dall'illecita raccolta di scommesso online alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni. Nello specifico riferimento a Catania sono 28 le persone fermate, tra loro ci sono anche esponenti dei clan Cappello e Santa Paola Erculano. I provvedimenti sono stati eseguiti dal personale della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania e del Rosso. Contestualmente sono stati sequestrati preventivamente in via d'urgenza beni per circa 70 milioni di euro in Italia e all'estero e 46 agenzie di scommesse e internet point nelle province di Catania, Messina, Siragusa, Caltanissetta e Ragusa. Le indagini si sono avvalse anche del contributo di un collaboratore di giustizia che grazie alle proprie competenze tecniche specifiche era stato l'ideatore della struttura organizzativa utilizzata dai clan. La mafia catanese, secondo stime della procura, avrebbe ottenuto un profitto complessivo di oltre 50 milioni di euro tra il 2011 e il 2017. Allo processo per concorso esterno all'associazione mafiosa, all'editore Mario Ciancio Sanfilippo parla il pentito Giovanni Brusca, che non cita mai Ciancio ma parla dei rapporti tra la mafia e gli imprenditori catanesi e cita il nome di Mercadante. Lei sa chi è questo signor Mercadante Giovanni? Se parliamo della stessa persona dovrebbe essere un medico palermitano molto vicino alla famiglia di Colleone, in particolar modo a Tommaso Cannella. Agevolare i detenuti, cioè aggravare o falsificare eventualmente cartelle cliniche. A parlare è il pentito Giovanni Brusca in videoconferenza con il Tribunale di Catania sollecitato dal PM Antonino Fanara nell'udienza del processo per concorso esterno all'associazione mafiosa all'editore Mario Ciancio Sanfilippo. Nell'aula del Palazzo di Giustizia di Catania Brusca è l'unico con il quale è possibile stabilire una connessione. Bisognerà invece aspettare la prossima udienza per sentire pentiti i catanesi Santo Lacause e Gaetano D'Aquino. Tra le prime dichiarazioni rese in aula compare il nome di Giovanni Mercadante radiologo ed ex deputato regionale di Forza Italia imparentato con il boss di Prizzi Tommaso Cannella e camice bianco al servizio degli uomini delle cosche palermitane. Un cognome, quello di Mercadante, che indirettamente rimanda all'ex direttore del quotidiano La Sicilia è uno dei suoi affari più noti, quello del centro commerciale Porte di Catania investimento in cui Ciancio è stato socio con Tommaso Mercadante figlio di Giovanni, nipote del boss Cannella. Vorrei sapere se lei ha qualche informazione sui imprenditori catanesi che naturalmente in qualche modo hanno avuto rapporti con Cosa Nostra o palermitana o catanese. Quelli che più a me noti erano i cavaliere del lavoro in parte con i modi Costanzo o Costanza come vengono chiamati Poi c'erano tutti altri soggetti che sinceramente in questo momento non mi ricordo il nome comunque attraverso Eugenio Calea o Aiello è comunque più noto di Angelo Sino perché lui era fra virgolette il delegato su questa materia quindi c'erano tanti altri soggetti che su Catania si mettevano a disposizione. Quindi i rapporti con questi imprenditori in genere li teneva chi ha detto? Puoi ripetercelo? Angelo Sino. Giovanni Brusca racconta anche di una riunione a Palermo tra il cavaliere Costanzo, i cugini Salvo e Totò Riina su un palazzetto dello sport. Questo fu oggetto di un sacco di contrasti tra Riina e Costanzo, Lima e Ciancemino e Riina si è impegnato moltissimo per questo lavoro. Attraverso le sue risposte Brusca non nomina mai il nome di Ciancio e gli unici riferimenti al mondo dell'informazione arrivano sulla sponda di Palermo con il giornale di Sicilia. C'è stato un momento in cui addirittura si era pensato di sequestrare il titolare a Dirzone. La prossima udienza per concorso esterno all'associazione mafiosa è fissata per il prossimo 15 gennaio. Per il maxi sequestro che ha colpito l'editore l'udienza è stata fissata al 4 dicembre. Un uomo è morto per un incendio divampato nel proprio appartamento in via Giusti a Palermo. La vittima aveva 69 anni e è stata trovata carbonizzata. Le fiamme sono divampate al sesto ed ultimo piano dello stabile a trovare il corpo. Sono stati i vigili del fuoco dopo essere entrati nell'abitazione. Il palazzo è stato evacuato e la casa è stata sequestrata. 26 persone tra dirigenti, tecnici, collaudatori e rappresentanti di imprese risultano indagate a Ragusa. Sentiamo perché. Il nuovo ospedale di Ragusa al centro dell'operazione ETHOS della Guardia di Finanza che si è conclusa con la notifica dell'avviso di conclusione indagini emesso alla procura Iblea nei confronti di diverse persone, tra dirigenti tecnici, collaudatori e rappresentanti di imprese. Si indaga per corruzione, falso e interruzione di pubblico servizio per il completamento del Giovanni Paolo II e per frode nelle pubbliche forniture ai danni dell'ASP per oltre 3 milioni e mezzo di euro nell'ambito dell'appalto delle pulizie. Scoperto che a fronte della fatturazione del servizio eseguita dalla ditta sulla base dell'estensione delle superfici da pulire indicate nelle capitolato d'appalto, l'azienda avrebbe fornito la prestazione sensibilmente diversa di pulizia. Poi l'inchiesta sulle nuove ospedale e sulle unità di trattamento dell'aria che sono risultate tutte collaudate tra la fine del mese di maggio all'inizio del giugno 2017 grazie a presunte false attestazioni di perfetto funzionamento mentre le successive attività tecniche seguite in contraddittorio con la parte avrebbero fatto emergere che il funzionamento delle unità avveniva in modo difforme rispetto al progetto. False attestazioni avrebbero riguardato anche il collaudo e la revisione di parti importanti dell'impianto antincendio. Presunti falsi tra preventivi e relazioni hanno interessato anche un'altra delibera delle direttore generale collegata all'assegnazione di lavori per circa 40 mila euro con l'affidamento diretto a favore della ditta in quel momento presente in cantiere. Intimidazioni ieri notte poco prima delle due a Pachino nel Siracusano un ordigno rudimentale esploso davanti la saracinesca di un negozio di autoricambi via Marsala un forte boato che ha svegliato i residenti gli agenti del commissariato stanno indagando su un possibile avvertimento del racket delle estorsioni. Fermati due scafisti che dalla Libia hanno trasportato 40 migranti sulle coste agrigentine durante la traversata a causa del maltempo i migranti si sono tuffati in mare uno di loro è morto, annegato. L'ennesima traversata di migranti dalla Libia alle coste agrigentine costa la vita ad un immigrato. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura di Agrigento con il sostituto procuratore Cecilia Bavarelli a carico di un nigeriano, Cletus Feda, 23 anni, e un egiziano, Ibrahim Mohamed Rida, 35 anni, responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione. I due scafisti, uno addetto alla navigazione mentre l'altro dotato di bussola indicava la rotta, avrebbero trasportato, partendo dalle coste libiche, 40 emigrati a Lampedusa. Il viaggio verso l'Italia è cominciato l'8 novembre scorso. Dopo due giorni di navigazione, a causa delle condizioni climatiche avverse, il motore del gommone su cui viaggiavano i migranti andava in avaria e, in balia delle onde, si avvicinavano ad un peschereccio che si trovava in zona per raccogliere le reti da pesca. Alcuni dei migranti, impauriti, si sono tuffati in mare e sono stati subito soccorsi dall'equipaggio del peschereccio. Uno di loro, però, gettatosi in mare nel tentativo di mettersi in salvo e raggiungere l'imbarcazione, è annegato nelle acque agrigentine. I due presunti scafisti si trovano attualmente nel carcere Petrusa di Agrigento e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per loro l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono riusciti, sono gettati in mare per aggrapparsi a queste reti e subito dopo anche gli altri migranti sono stati trasportati sul peschereccio. Uno di loro, però, anche a causa delle condizioni meteo avverse, è stato inghiottito dalle onde e purtroppo è annegato. Subito dopo sono stati condotti a porto del peschereccio a Lampedusa e lì è partita la macchina investigativa. Chiesto dai PM il rinvio a giudizio dell'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta per traffico illecito di rifiuti. La vicenda è collegata alle autorizzazioni che firmò nel 2016 per gli impianti della cisma ambiente di Melilli. Io sono profondamente deluso. Sono due le inchieste sulla gestione di discariche aperte dalla procura di Catania che coinvolgono l'ex presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Il suo rinvio a giudizio insieme ad altre 11 persone è stato chiesto dai PM per traffico illecito di rifiuti per le autorizzazioni che firmò nel 2016 per gli impianti della cisma ambiente di Melilli. Al centro dell'inchiesta l'autorizzazione concessa affinché la spazzatura prodotta giornalmente in provincia di Siracusa e a Palermo fosse conferita nella discarica di Melilli che riceveva soltanto rifiuti speciali. Rispetto a questa vicenda l'ex presidente della regione ha dimostrato la sua estraneità ha dichiarato il suo avvocato Vincenzo Lorè anche perché le ordinanze sono state firmate solo dopo aver ricevuto dettagliate relazioni tecniche e anche l'autorizzazione da parte dell'ASP. L'ex presidente della regione è anche indagato per lo stesso reato in un'inchiesta ancora aperta sui due impianti della OICOS tra Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco. Le discariche di tiriti e valanghe d'inverno al centro di interesse dei comitati cittadini che ne chiedono la chiusura e la bonifica dei siti. Carabinieri di Agrigento hanno arrestato un quarantenne palermitano ritenuto uno dei tre uomini che nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorsi a Sambuca di Sicilia avrebbero provocato un incendio in cui sono rimaste coinvolte 5 vetture con un danno stimato in oltre 100 mila euro. L'uomo è accusato di aver dato fuoco ad un'auto parcheggiata all'interno del centro storico del Borgo con le fiamme che poi si sono propagate velocemente anche ad altre vetture vicine distruggendole completamente. Tenevano droga e munizioni all'interno dell'ascensore condominiale quanto scoperto dai carabinieri di Trapani in un condominio di via Mascagni nello specifico all'avvicinarsi dei carabinieri le vedette dei malviventi hanno tentato di cancellare tutte le tracce di materiale illegalmente detenuto oltre che dalle vedette la zona era costantemente presidiata da un sofisticato sistema di sorveglianza grazie all'ausilio del cane orco i carabinieri sono riusciti ad accedere al vano ascensore l'hanno rivenuto 76 cartucce 55 dosi di cocaina e ancora ascensore per 300 grammi oggi primo giorno di test per il nuovo piano viabilità nelle vie Caronda e Palazzotto nei pressi del Tondo Gioieni a Catania vediamo com'è andata è entrato in vigore questa mattina il nuovo piano viabilità in prossimità del Tondo Gioieni a Catania la via Caronda anche nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Fimia e Ingegneri è adesso percorribile in entrambi i sensi di marcia inversione di senso invece per via Palazzotto ora percorribile solo in salite non più in discesa come precedentemente un test nel complesso positivo quello di oggi soprattutto per via Caronda qualche incertezza tra gli automobilisti ha invece creato il nuovo piano in via Palazzotto la zona è comunque costantemente presidiata dagli agenti di polizia municipale pronti a fornire tutte le indicazioni devo dire che almeno per oggi la situazione sta sembrando abbastanza fluida sta funzionando quantomeno per via Caronda infatti ricordo che la nostra mozione riguardava il cambio di viabilità con il doppio senso in via Caronda anche nel tratto fra l'ingegnere e via Fimia l'amministrazione comunale ha portato avanti la proposta anche di cambiare il senso di via Palazzotto stiamo verificando se questa cosa funziona e se nel caso continuarla o meno quindi dato per assodato che la via Caronda in doppio senso sta funzionando invece per via Palazzotto ancora ci riserviamo di dare un commento appena avremo più giorni di prova chiaramente poi se è del caso vedremo se lasciare via Caronda se lasciare anche via Palazzotto col cambio di direzione quindi a salire anziché scendere o se provare a riportare la situazione per come era prima è ancora vivo in tutti noi il ricordo di Calogero Zucchetto il poliziotto che ha sacrificato la propria vita per il suo impegno nella caccia ai latitanti di mafia la giornata di oggi occasione per ribadire la vicinanza a quegli agenti alle forze dell'ordine e ai magistrati impegnati per rassicurare alla giustizia i latitanti l'ho detto il sindaco Luca Orlando ricordando Calogero Zucchetto assassinato dalla mafia il 14 novembre del 1982 in via Notarbartolo a Palè ci fermiamo torniamo tra poco per la seconda parte interamente dedicata allo sport serramenti in alluminio verande facciate frangisole e tanto altro ancora da 35 anni mettiamo la nostra competenza al servizio del cliente sempre pronti a soddisfarne i desideri con la massima cura e professionalità infissi metallici di Miceli Orazio la sicurezza e la bellezza al servizio della gente Viale Aldomoro 36 Nicolosi, Catania telefono 095 791 4535 per oltre un secolo ci siamo presi cura di generazioni di cittadini siamo i medici e gli infermieri dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania dal 18 novembre la nostra storia continua nel nuovo pronto soccorso del Policlinico di Via Santa Sofia una struttura moderna con nuovi servizi spazi ampi tecnologia all'avanguardia ma con la stessa passione di sempre non vorremmo mai aspettarvi ma in caso di necessità sapremo sempre come accogliervi alle pendici dell'Etna sorge Mareneve Resort relax ed accoglienza in una cattivante combinazione tra originalità del design contemporaneo e la semplicità dei materiali tipici della zona all'interno una vasta offerta di programmi benessere per tutte le esigenze percorsi sensoriali, sauna, idromassaggio bagno turco e massaggi disponibili anche due sale e ristoranti da 150 e 50 posti ciascuna ideale per banchetti, cerimonie ed eventi Mareneve Resort organizza escursioni attività invernali noleggio mezzi e pick up scuola di cucina New Beca Gel opera da oltre 20 anni nel settore del trasporto alimentare per la ristorazione extra domestica distribuisce su tutto il territorio regionale una vasta offerta di prodotti alimentari e no food rivolgendosi al settore Oreca assistenza pre e post vendita consegna giornaliera con automezzi avanzati ed omologati di prodotti di drogheria, pasticceria, latticini, gastronomia, carne, itici, surgelati e casalinghi info 095 516 977 www.newbecagel.it cercaci su facebook una storia secolare alle pendici dell'Etna la distilleria fichera dal 1871 è leader nel settore dei liquori e dei distillati esportandoli in tutto il mondo crema di liquori, rosoli, amari, grappe e distillati prodotto di punta e il fuoco dell'Etna più forte e più buono che mai distilleria fichera via stabilimenti 237 Santa Venerina Catania www.distilleriaefichera.it Nuovo Peugeot Rifter Ogni giorno è un'avventura Bisù Ben ritrovati per la seconda parte di Ultima Tg che apriamo parlando del Consiglio Comunale sul dissesto di Catania che si è tenuto ieri sera in un clima di protesta in aula molto articolata la relazione dell'assessore Bonaccorse del sindaco pogliese che ha puntato il dito sulle responsabilità dell'ex amministrazione bianco sentiamo Rosa Maria Di Natale Il tanto atteso Consiglio Comunale straordinario sull'allarme di sesto a Catania è stata l'occasione ufficiale per l'amministrazione pogliese per offrire il proprio punto di vista sulle cause del disastro economico finanziario che hanno segnato il default di Palazzo degli Elefanti Nel corso della seduta chiesta dal consigliere del gruppo misto Salvo di Salvo è stato l'assessore comunale al bilancio Roberto Bonaccorsi ad offrire una chiave di lettura dati alla mano su quelle che potrebbero essere state le cause del collasso Bonaccorsi ha ricordato i 121 milioni di mutui accesi dall'amministrazione bianco tra il 1993 e il 2000 per i disavanzi MT e i 39 milioni utilizzati per attività culturali e di intrattenimento il primo cittadino ha sottolineato mi sarebbe piaciuto confrontarmi con l'ex sindaco bianco in questo emiciclo e non su Facebook e sui giornali il riferimento alle dichiarazioni pubbliche esposte sui social dall'ex primo cittadino è stato chiarissimo Pogliese sostiene che Bianco abbia detto cose errate al di là del rimpallo di responsabilità tra protagonisti del passato più recente dei governi cittadini la giunta Pogliese ha fatto appello alla compattezza per risollevare il destino della città a conclusione della seduta straordinaria sono stati approvati due ordini del giorno con cui il consesso civico chiede all'amministrazione di attuare misure urgenti per fronteggiare il dissesto affirma Andrea Barresi del gruppo misto e Sebastiano Anastasi del gruppo Grande Catania il primo chiede di garantire il livello occupazionale dei lavoratori delle partecipate il secondo suggerisce di richiedere al governo nazionale la sospensione del DURC ed alcuni obblighi per tutte le imprese che hanno rapporti con il comune intanto il clima in aula non era certamente indifferente visto che alcuni manifestanti hanno esibito alcuni striscioni con su scritto dateci soldi vergogna e in piazza Duomo si teneva intanto l'annunciata manifestazione cittadina organizzata da Catania Bene Comune che ha denunciato quello che viene considerato dal movimento le scelte fallimentari delle cattive gestioni guidate dai sindaci Scafagnini, Stancanelli e Bianco E la sigla annuncia ultima sport in studio con noi Federico lo giudice per le ultime Ben ritrovata grazie ben ritrovati i nostri telespettatori oggi cominciamo con il Palermo perché ci vogliamo conoscere le ultime novità per quanto riguarda la cessione del club rosa nero e anche le ultime di mercato vediamo tutto con il servizio di Roberto Chifari Tre patti nero su bianco per sancire un'alleanza il primo riguarda il direttore dell'area tecnica Rino Foschi c'è un accordo chiaro tra società e giocatori prima la promozione e poi i rinnovi contrattuali in scadenza nel 2019 ci sono all'esame Iaglielo, Rispo e Lestruna tutti stanno trattando con la società rosa nero per definire il proprio futuro a Rino Foschi le società avrebbero offerto il rinnovo automatico su base biennale ma solo in caso di promozione in Serie A l'obiettivo sia per la società che per i giocatori è quello di raggiungere la massima serie per questo motivo i giocatori potrebbero restare a Palermo anche in caso di offerte durante il calciomercato invernale poi c'è sempre la cessione del club e qui entriamo nel campo delle ipotesi Zamparini sta trattando per la cessione della società con un fondo americano una cessione totale delle quote che avrebbe come condizione l'impegno garantito dal nuovo compratore al saldo di tutti i debiti compreso il debito di Alissa che ammonta a 22 milioni e 800 mila euro il nuovo compratore dovrebbe anche garantire la costruzione di una squadra che possa competere per raggiungere la qualificazione alle coppe europee con investimenti stanziati già nella prossima campagna di calciomercato invernale terzo e ultimo patto invece è quello tra la società e i tifosi bisogna riportare la gente allo stadio per farlo servono risultati e su questo stallone sta lavorando una politica di prezzi e promozioni al ribasso ma soprattutto una chiarezza che i tifosi chiedono sul futuro della società a Palermo c'è tanto da lavorare ma di sicuro l'obiettivo è uno solo conquistare la promozione Chiarezza e tanto lavoro che dovrà affrontare il Catania in questi ultimi giorni prima della trasferta a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia dell'ex Caserta dell'ex Polito un Catania che è in silenzio stampa non può parlare potrà parlare solamente il ammissore delegato Pietro Lomonaco quindi fino a sabato bocche cuscite anche perché la sconfitta interna con il Catanzaro ha lasciato il segno ha aperto la porta alle prime polemiche non solo tra i tifosi ma anche tra alcuni colleghi che hanno sottolineato la difficoltà mostrata dalla squadra rossa-azzura nelle ultime tre partite però detto questo la squadra di Soltile oggi si è allenata questa mattina è tornata ad allenarsi intorno alle 3 e mezza per una seconda seguita di allenamento possibilmente perché vuole preparare al meglio questa trasferta in campagna tra le altre cose manca ancora l'ufficialità che dovrebbe e dovrà arrivare oggi da parte della Lega Pro per il rinvio della gara di martedì 20 novembre che era prevista fra Matera e Catania recupero dalla terza giornata che sarà posticipata a martedì 27 novembre ma vediamo un pochino come si sta preparando il Catania comunque a questa trasferta in campagna contro la Juve Stabia attraverso il servizio del nostro Giovanni D'Antoni da un grande potere derivano grandi responsabilità da grandi poteri derivano grandi responsabilità recitava così con tono solenne Spider-Man uno dei personaggi ideati e creati dal grande Stan Lee celebre padre del mondo Marvel che ci ha lasciato dopo una carriera condita da idee innovative non solo supereroi con superpoteri di super tornando ai giorni nostri c'è ben poco da raccontare ma della frase celebre del film di Lee si può anzi si deve estrapolare un termine importante responsabilità quelle che dalle parti di Catania sono piombate con maggiore decisione su Andrea Sottile e la sua squadra le prime di questa stagione che ha nominato le certezze del gruppo Rosso Azzurro un nucleo forte ma che sta peccando di qualità e concretezza nessun disfattismo se è vero che il gioco ha mostrato lacune e gli ultimi risultati non danno adito a sorrisi è pur vero che il gruzzolo di partite ravvicinate dopo un'estate che dire tribolate e dire poco hanno influito sulla condizione più mentale che fisica dei Rosso Azzurri Sottile non vuole farne un alibi ma va dato atto al tecnico che la preparazione e il lungo precampionato è stato difficile e lontano dalle sue aspettative ora che il campo è l'unico ad emettere sentenze il Catania arranca sei gol nelle ultime tre partite sono troppi per una formazione concepita per vincere il campionato le rivali intanto corrono e prendendo spunto dai fantasmi della scorsa stagione si cerca di lavorare per non commettere gli stessi errori rialzare la testa farlo subito per non incorrere i nuovi dubbi ario Tenace che fa sul serio è il primo vero spartiacque della stagione sarebbe un peccato con questi poteri e queste responsabilità non alzare l'asticella per diventare grandi anzi per diventare super ed è quello che ci auguriamo noi che sabato il Catania contro la Juve Sabbia torni ad essere super tra le altre cose ne approfitto grazie perché come abbiamo annunciato il Catania è in silenzio stampa quindi questo automaticamente porta al fatto che noi venerdì purtroppo non potremmo fare il face to face con i giocatori del Catania come vi abbiamo abituato non dipende da noi una scelta dal club rossazzurro dobbiamo adeguarci nonostante noi siamo un media partner del club però le decisioni della società eterna devono essere rispettate in chiusura andiamo a vedere il servizio di Martina Famoso che parla di scherma e di come stiano facendo molto bene gli azzuri siciliani impegnati nella Coppa del Mondo a salire sul secondo gradino del podio del primo appuntamento del circuito di Coppa del Mondo di scherma maschile ci sono i siciliani Daniele Garrozzo e Giorgio Avola che insieme ad Alessio Foconi e Andrea Cassarà hanno conquistato la medaglia d'argento nel fioretto a squadre ad imporsi sull'Italia campione del mondo del commissario tecnico Andrea Cipressa è stato il team statunitense con un punteggio di 45 a 32 in finale una sfida replicata sia ancora una volta che negli ultimi pesi è diventata quasi un evergreen del circuito mondiale nel frattempo in campo femminile la prima tappa della nuova stagione di Coppa del Mondo di Spada si conclude solo con un modesto settimo posto per l'Italia nella prova squadra mentre ad Orléans la sciabola femminile ottiene nella gara d'esordio il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è il quartetto composto da Irene Vecchi Rossella Gregorio Martina Cresce e Sofia Ciaraglia per la pagina sportiva abbiamo concluso vi do la linea grazie grazie ancora alla redazione sportiva noi chiudiamo questo appuntamento l'informazione torna alle 17.30 grazie per essere stati con noi buon pomeriggio grazie a tutti